Manca ormai pochissimo al Natale, restano ancora pochi giorni per ultimare i regali da adagiare sotto l'albero. Quest'anno, dopo un duro anno e mezzo di pandemia, ci si torna a riunire per le festività, pur sempre mantenendo le linee di sicurezza e la distanza. Con le limitazioni in arrivo per le feste e veglioni, gli italiani si concentrano quindi sui regali dell'ultimo minuto, con una spesa stimata intorno ai 206 euro a testa, in aumento del 17% rispetto all'anno precedente. La ripresa dei contagi e le misure di contenimento della pandemia con il ritorno alle mascherine lungo le vie dello shopping non hanno fermato gli italiani, che per una maggioranza del 41% conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 26% arriverà fino a 200 e un altro 15% si spingerà fino ai 300 euro. Tra i doni più gettonati ci sono l'enogastronomia, assieme all'abbigliamento, agli accessori, ai giocattoli, ai libri, alla musica, la tecnologia e gli articoli per la casa. Si registra un prepotente ritorno dello shopping nei mercatini frequentati da oltre la metà degli italiani, una tendenza spinta anche dalla possibilità di stare all'aria aperta, seppur nel rispetto della sicurezza. In Molise da più parti si iniziano ad intravedere già stand con prodotti tipici e manufatti, per l'occasione a Campobasso per incentivare il commercio in Piazza Pepe e nelle principali vie del centro, l'amministrazione comunale ha anche tagliato al minimo i costi dei ticket e dei parcheggi per invogliare gli artigiani ad esporre la merce nelle vetrine e nei gazebo esposti.